L'Italia ha il diritto di avere qualcuno che abbia il 51% in Parlamento. Se l'avremo noi, lo useremo come fosse il 49, perché l'Italia ha dei problemi molto seri, rivolgendoci a tutte le forze che non siano l'eredità del berlusconismo e del leghismo, che siano europeisti, che siano democratiche. Io ho ripetuto e ripeto questo come una giaculatoria. È la mia intenzione, è la nostra intenzione, è questa intenzione che quindi implicitamente contiene la disponibilità a discutere con forze moderate, centrali, quelle di Monti e così via. Per fare che cosa? Le riforme, il governo, che cosa? Si vedrà. Eh, si vedrà. Perché c'è anche il merito delle questioni, no? Quindi io ho sentito, per esempio, cose, che ne so, sul tema del mercato del lavoro, piuttosto che sulle unioni civili, che non mi convincono. E io le alleanze non le faccio a tutti i prezzi. Ecco. Dopodiché c'è questa disponibilità al confronto. Dopodiché c'è questo.